Scontro frontale lungo il raccordo autostradale di Arezzo all'altezza dell'uscita di San Giuliano, tre le persone rimaste coinvolte nello schianto. È successo mercoledì mattina poco dopo le 12. Un furgone ha improvvisamente perso il controllo del mezzo e ha iniziato a sbandare, andando ad urtare un altro furgoncino che proveniva dalla direzione opposta. Due persone sono rimaste incastrate tra le ramiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Arezzo per estrarle. Il ferito più grave è un 32enne di Cavriglia portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo per trauma cranico. Nello scontro sono rimasti feriti anche due coniugi tedeschi che viaggiavano all'interno del furgoncino turistico e entrambi sono stati trasportati in codice giallo al San Donato. Pesantissime ovviamente le conseguenze sulla circolazione, traffico in tilt per la momentanea chiusura del raccordo. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia municipale per i rilievi di legge e il personale ANAS.